Sono giorni difficili ad Aci Sant'Antonio. I dipendenti del Comune non hanno ancora percepito lo stipendio di gennaio e probabilmente a breve non prenderanno nemmeno quello di febbraio. Ieri il tema è stato affrontato in Consiglio Comunale. Il Sindaco Santo Caruso, ieri in aula davanti alle sollecitazioni dell'opposizione su tutti Alfio Puglisi in apertura di seduta, ha fatto il punto della situazione. Domani il primo cittadino sant'antonese sarà in prefettura per cercare una soluzione. Caruso però ieri in Consiglio Comunale è stato chiaro. Con il problema stipendi il dissesto non c'entra. Il problema è secondo il primo cittadino di diversa natura ed è legato al servizio della tesoreria comunale. La convenzione con l'istituto di credito che gestiva il servizio è scaduta lo scorso 31 dicembre e due bandi di gara fin qui sono andati deserti. Davanti alle richieste della minoranza Caruso è stato costretto a ribadire che il dissesto non c'entra e che il problema dell'affidamento della tesoreria lo stanno riscontrando diversi enti comunali.